C'è uno sotto qua Sher, io lo sto andando a prenderla Noi ragazzi, è pieno, è pieno Alex, è pieno Cristo Dio, eccolo Ciao Esatto, eccolo lì, siamo in 100.000 Oddio, ho tre macchine Dov'è la valigetta? Oh, ma chi va abbassato? Dove c'è il tessher? Nel terreno non c'è No ragazzi, sono ancora nelle LTV Dov'è la valigetta, vince? Ma scusate, a me mi ha ammazzato uno con le LTV C'è un altro LTV Porca troia C'è la valigetta? Se sopravvive, tornerai in azione Ce l'ha Ah, ce l'ha lui? Nel lavoro, la classe Si, c'è il contenitore Cerro E mo' come facciamo, vince? Aioi! Nooo, cazzo Come ha fatto a non morire? Forca proia ragazzi Cosa sta a scappare? Quattro Che sfiga Coda? Vincchia raga, quello citta mi sa eh S'uccite raga Troia Dovevo restare pure a slide Quattro Quattro Cazzo E salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Sherlock di quartiere e benvenuti in questo nuovo video sul mondo di Warzone, che in teoria io la chiamerei DMZ mode, come la chiamano gli americani, quindi in pratica hanno messo DMZ su Warzone, il risultato è un caos totale, però è divertente ragazzi, quindi ci stiamo divertendo, abbiamo preso la prima valigetta con Slavic, Brezone, la vecchia e queste sono le nuove ricompense ragazzi se le prendete, sono 7 valigette se non sbaglio, skin, skin arm, emblemi eccetera eccetera, in più se vincete con la valigetta vi daranno la skin, quindi se prendete solo le valigette non vi da la skin ragazzi, dovete vincere con la valigetta con la valigetta nello zaino, per prendere la skin, e prima di iniziare ragazzi con il video vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e supportarmi se volete con un abbonamento, costa solo 1,99€, daglie, divertitevi! Ah ma siamo morti? Cazzo! Di solito, ah eccola, siiii! C'è un'altra bombolina Allora... Allora... Oh mi sto in acqua, ragazzi, mentre voi fate i contratti Ah 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 Sono dispregati Eh Troppo tardi Ah 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 Santo che vado a uccidere questo Che fai, caglione, mi volevi bussare! Stupido Dov'è sta pippa? Non male, senza armi... Cazzo qua, cazzo L'ho fatto, l'ho fatto Ma esla, resta brace Così non li faremo mai, sti cazzo di soldi Vabbè, ma non crepa, no! C'è... Nel senso C'è, ma porca bruttana Non uscete, gli sparo in gola Ma dove cacchia stiamo andando? Ce la facciamo prendere la valida? Ma porca Secondo me se torniamo l'anno prossimo forse riusciamo a prendere Ancora bugata sta zip? Ah no, ah no, già sai Come cazzo si fa i uccusti In la peste soldi Scusate Bella Guarda, guarda, guarda che cattivo Guarda, guarda che cattivo Guarda, ho il nuke skin, raga, da me Guarda, guarda, guarda Ancora lì Arriva un valordi I bastoni in giro Succhiamo in le palle Un po' meno, un po' meno Ci sei vecchia? Uavi nemico in volo Cazzo cazzo Prendete i soldi, prendete i soldi No, ci siamo Non ci siamo, non ci siamo poco 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 pochi soldi e siamo troppo tardi cioè troppo tardi per l'elicottero raga o forse perché siamo fuori safe non lo so il problema è che c'è scritto richiede l'elicottero la stazione disponibile fino alla chiusura del gulag la prossima c'è ancora il new team c'è il new team qui atterrato vecchio devi andare sul vetro sul vetro ti poggi sul vetro e gli spari dentro aspetta che però che si taglia nelle eniche guarda come si taglia sono usciti sono usciti sono scesi si è scesi vecchio e lo so ma io ne volevo andare non volete sotto lo sotto ma è giù è qua 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 lasciate tutti i soldi qui vado qui ok visuale sulla cacca i soldi qua messi dietro lo shop raga arriva la safe veloci ottimo dove andrà dobbiamo le facci dove l'estrazione non la rida qua 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 raga è davanti a noi a destra andiamo 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 io ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho andiamo chi se ne chi se ne andiamo 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 c'è gente a sinistra eh occhio aspetta andiamo ci mirano eh guarda tutto il giro non so che fa ce l'abbiamo dietro eh occhio lo shit è dietro di noi fuck 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 l'ho visto correte raga correte 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 raga correte grazie quando arriva? tra quanto arriva? 40 secondi? si se ci scemo 40 secondi può succedere di tutto bravo praise ce l'ha lui la valigetta però lo dobbiamo coprire lo dobbiamo coprire corre praise vai 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 20 secondi dov'è sto idiota con l'elicota? ma 20 secondi arriva e poi no 20 secondi abbiamo no no vabbè sì l'importante è che saliamo e poi eh dobbiamo far veloce chi è questo? ti prendi vai lino non sei un pazzo muoviti stupido elicottero manca una roba sa pasta vai vai salite 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 veloci veloci grazie bella ragazzi ma che cazzo c'ha? svegliate le due? abbiamo Tamattане che cazzo di svegliate? guarda questo voleva venire qui ho ho dove cazzo è andato no no che c'è? ma stiamo scherzando tutti lo strato grazie